4.000 puntate in 18 anni. Un posto al sole, la sop opera di Retri, diventa oggi maggiorenne e per l'occasione si è dedicata a una serie di iniziative speciali. Il sindaco De Magistris ha voluto dare un riconoscimento al centro di produzione Rai di Napoli dalla produzione della sop attraverso una targa con la quale ha ringraziato gli attori, i produttori e tutti i tecnici perché Un posto al sole continua ogni giorno a raccontare i mille volti di Napoli a tutto il paese promuovendo il suo enorme patrimonio culturale e artistico. È un riconoscimento che l'amministrazione e la città vuol dare a un posto al sole in occasione delle sue 4.000 puntate e del 18esimo compleanno, un punto di riferimento per la nostra città, un modo per raccontare Napoli nel mondo. A sorpresa poi l'annuncio che il sindaco sarà protagonista di una puntata della sop. Il sindaco rappresenta la città, questa fiction rappresenta la città e quindi mi sembra, ed essendo una fiction inclusiva, mi sembra come dire una cosa anche un po' divertente e ironica quella di proporre al sindaco di fare una parte di un posto al sole. Durante la cerimonia è stato dato anche l'annuncio del rinnovo almeno per i prossimi due anni della produzione della sop nella sede Rai di Napoli. Significa che c'è una Roma fortissima consapevolezza dell'importanza del posto al sole, sia in termini di ascolti ovviamente perché per la rete è importante ma non solo, anche perché è un modello produttivo ed è un modello di come poter raccontare delle storie e aderire a quello che poi è il nostro slogan di Rai Fiction, nessuno è escluso. Per festeggiare un posto al sole è stata organizzata inoltre a Castel dell'Ovo fino al 30 maggio 18 e non li dimostra, esposizione di immagini e video della sop dedicate al tema dello scorrere del tempo, con particolare attenzione alle realtà sociali affrontate durante le puntate. Sottolineerei molto questo aspetto di valore che ha il posto al sole un po' anche come rappresentazione e filosofia di vita e oltre ovviamente la grandissima importanza che dal punto di vista dell'assessore al turismo ha una trasmissione come il posto al sole attraverso cui noi possiamo ammirare non solo lo scenario meraviglioso del Golfo di Napoli ma tanti siti e monumenti davvero unici al mondo.